benvenuti ragazzi oggi parleremo dell'età d'oro dell'impero romano cioè il secondo secolo dopo cristo che è il periodo del principato adottivo periodo che va dal 98 al 180 dopo cristo che guarda caso è il periodo in cui l'impero con traiano raggiunge la massima espansione però andiamo in ordine allora dopo il 96 cioè alla morte di domiziano che era stato ucciso perché un cattivo imperatore e il senato sceglie come imperatore un senatore umbro di nome cocceio nerva e nerva eccolo qui in questa in questa statua nerva regna per due anni dal 96 al 98 dopo cristo in accordo con la senato del resto anche lui era un senatore allora la cosa importante che fa nerva e quella di inaugurare il principato adottivo o il principato per adozione che cos'è questo principato per adozione allora fino a questo momento noi abbiamo visto il principato dinastico con i successori che i successori del del principe noi vari imperatori che si succedevano all'interno di una famiglia per esempio abbiamo parlato della dinastia giulio claudio e poi abbiamo parlato della dinastia flavia si sceglieva c'è la successione andava di padre in figlio o comunque se l'imperatore non aveva un figlio passava al parente più prossimo adesso invece si sceglie non l'imperatore più vicino per parentela ma si sceglie come successore cioè nerva sceglie come suo successore marco ulpio traiano che era un generale dell'esercito non perché un suo parente non ha nessun legame con traiano tra l'altro traiano è il primo imperatore provinciale proveniente addirittura dalla spagna ma perché è secondo nerva e il successore più adatto più adatto su che cosa non sulla base della parentela sulla base delle sue qualità e dei suoi meriti cioè l'imperatore in carica sceglie come suo successore non il parente più prossimo ma la persona che reputa più adatta a fare l'imperatore la persona che ha le capacità le competenze le qualità i meriti per svolgere la delicatissima e difficilissima funzione di imperatore quindi abbiamo degli imperatori capaci di governare infatti andiamo al prossimo imperatore traiano appunto quello scelto da da nerva traiano che regnerà dal 98 al 117 dopo cristo e il primo addirittura il primo imperatore originario di una provincia abbiamo visto già con i flavi un imperatore italico adesso vediamo addirittura un imperatore provinciale che proveniva dalla spagna e viene scelto per le sue capacità non hanno ripeto nessun legame di parentela con nerva era un alto ufficiale un generale dell'esercito e traiano sarà un buon imperatore allora regna in accordo col senato poi è molto attento ai ai nullatenenti cioè poveri e appunto apre dei fondi di assistenza per i disoccupati per i nullatenenti e poi dei prestiti agevolati cioè dei prestiti a basso interesse per i contadini piccoli proprietari terrieri in maniera tale da aiutare la piccola proprietà terriera che spesse volte arrancava di fronte al alla grande proprietà terriera di fronte al latifondo e traiano si occupa anche di risanare le finanze dello stato che erano un po in deficit e poi traiano è un generale quindi con lui l'impero raggiunge la massima espansione conquista la dacia che poi verrà romanizzata ed è l'attuale romania conquista la rabbia petreia ora lo vediamo nella cartina allora eccoci qua torniamo indietro allora allora le conquiste di traiano sono la rabbia petreia allora sono quelle in arancione la rabbia petrea che è questa zona qua che corrisponde alla zona attuale del sinai molto importante per i commerci poi conquisterà la mesopotamia la siria e l'armenia e abbiamo detto conquisterà la dacia l'attuale romania quindi con lui l'impero raggiunge la massima espansione mettiamoci anche le province le province sì le altre zone della traccia della mauritania e della britannia che erano state conquistate prima da claudio e da domiziano e abbiamo la massima espansione dell'impero quindi un periodo molto importante molto splendido per l'impero vediamo anche eccoci qua la colonna traiana la colonna traiana che si trova a roma che ci racconta con dei bassorilievi e bene tutti a spirale come vedete in questa immagine ci racconta le imprese di traiano e in particolare la conquista della dacia la dacia fu una provincia molto romanizzata tanto che si chiamò romania per questo motivo e la lingua attualmente parlata e il rumeno che è una lingua neolatina se andate a roma andate a visitare andate a vedere la colonna traiana perché ne vale la pena allora traiano scelse come suo successore sempre col principio dell'adozione un altro un altro spagnolo perché anche adriano era originario della spagna adriano regnerà dal 117 al 138 dopo cristo e un imperatore colto molto colto e cosmopolita infatti ea differenza dei suoi predecessori gli piace viaggiare per tutto l'impero gli piace viaggiare sia per diciamo ecco vedere la situazione spezionare la situazione delle varie province sia per esplorare per desiderio di conoscenza per desiderio di cultura la sua meta preferita è la grecia perché adriano ama tantissimo la cultura greca e soprattutto atene tanto che verrà programmato cittadino onorario di atene con andriano cambia la politica estera dell'impero perché non sarà più una politica di conquista come quella di traiano ma sarà una politica estera difensiva adriano fa costruire una grande muraglia il cosiddetto vallo di adriano in britannia per proteggere quella zona dell'attuale gran bretagna che era stata conquistata dall'impero romano poi adriano è molto attento alla alla gestione delle finanze quindi quindi riesce a risanare le finanze e anche amministra molto bene lo stato in accordo col senato e anche la giustizia del resto è un imperatore saggio e con lui si avrà un consiglio imperiale cosiddetto consiglium principis formato dai suoi più stretti collaboratori tra cui ci sarà anche in questo consiglium il suo successore antonino pio che verrà scelto proprio tra i membri del consiglium e forse ecco l'unica nota assonata nel nel principato di adriano e la romanizzazione forzata della palestina ma perché gli ebrei si erano nuovamente ribellati e quindi adriano decide di agire con la forza e con la violenza e avvia una romanizzazione forzata della palestina per cui molti ebrei vengono arrestati condannati a morte e quindi la diaspora ebraica la fuga degli ebrei dalla da gerusalemme e dalla giudea si fa sempre più diciamo frequente e addirittura adriano fa cambiare il nome alla giudea la farà chiamare palestina e non più giudea e giudea giudea prendeva il nome dai giudei cioè dagli ebrei mentre la palestina prende il nome dai filistei che erano stati da sempre i nemici giurati degli ebrei come per dire che quella non era più la terra degli ebrei ma infatti ripeto la diaspora degli ebrei dalla dalla giudea si intensifica successore di di adriano come abbiamo già detto sarà antonino pio antonino pio eccolo qui che regna dal 138 al 161 dopo cristo verrà chiamato pio pius per la sua religiosità per il rispetto e nei confronti degli dèi e soprattutto nei confronti del suo predecessore di adriano che lui farà addirittura divinizzare e antonino pio seguirà la strada di adriano in politica estera cioè si dedica a rafforzare le frontiere a rafforzare le difese dell'impero e il periodo di antonino pio un periodo di pace e di stabilità di benessere e tra l'altro antonino pio oltre che religioso è anche molto attento alle esigenze e bisogni delle fasce più deboli e avvia una politica assistenziale nei confronti dei più poveri e poi pone fine alla persecuzione degli ebrei insomma alla mano di ferro che adriano aveva aveva imposto sugli ebrei con con antonino pio finisce diciamo la repressione degli ebrei e il successore di antonino pio è un altro imperatore molto famoso l'imperatore filosofo mark aurelio lo vediamo in questa immagine qui questa stato in questo busto che regna dal 161 al 180 dopo cristo e con marca aurelio praticamente finisce principato adottivo e marco aurelio un imperatore filosofo e un seguace dello stoicismo e e l'imperatore che ci ha lasciato una raccolta di pensieri intitolati se auton a se stesso di carattere riflessivo e filosofico marco aurelio nei primi anni del regno rendendosi conto che l'impero era molto vasto e quindi non non poteva governarlo da solo associa al potere il fratello lucio vero che regnerà fino al 169 perché poi purtroppo lucio vero morirà di malattia e quindi marca aurelio rimane da solo è un imperatore che non ama combattere però purtroppo è costretto a farlo perché sotto il suo impero già in questi anni si vedono i primi segni di disgregazione dell'impero e primi segni di debolezza difensiva di debolezza delle frontiere dell'impero perché adesso ci sono i parti che premono molto molto pericolosi mentre a nord ovest ci sono i germani e e ci sono soprattutto le tribù germaniche dei quadi e dei marcomanni contro cui marco aurelio combattè varie volte sconfiggendoli e infatti marco aurelio morirà nel 180 mentre era al fronte a combattere contro contro i germani morirà a vindobona l'attuale vienna di peste e forse l'unica cosa diciamo negativa l'unica negatività di questo imperatore è il fatto di aver posto fine al principato adottivo e di voler tornare al principato dinastico e infatti non sceglie il suo erede per adozione ma sceglie come erede il figlio comodo e infatti per questo abbiamo detto che il principato adottivo finisce nel 180 e aveva torto marco aurelio perché commodo eccolo qui eccolo qui commodo sarà un cattivo imperatore e allora già commodo deve affrontare la crisi politica economica sociale che già stava affrontando il padre però il padre ebbe di ben altra levatura commodo non è in grado di governare con lui si ritorna al governo di spotico di domiziano di nerone di calligola a certi atteggiamenti diciamo strani stravaganti per esempio commodo lo vedete qui amava vestirsi e con la pelle di leone di ercole perché il suo eroe preferito era ercole infatti qui lo vediamo no in questo busso lo vediamo con la pelle di leone e non fece altro che sperperare le finanze pubbliche cioè non si preoccupò di governare mentre sperperò le finanze pubbliche con i divertimenti con le feste con gli spettacoli del circo che lui amava tantissimo perché si sentiva anche lui un gladiatore e quindi fu un cattivo imperatore tanto che venne ucciso in una congiura organizzata dal prefetto al pretorio in accordo col senato e così finisce il periodo aureo dell'impero così finisce in maniera diciamo poco onorevole il secondo secolo perché gli ultimi 12 anni di regno di commodo non sono stati certo molto molto belli e purtroppo arriveremo poi all'età dei severi arriveremo al terzo secolo periodo in cui inizierà la crisi dell'impero romano crisi che poi sfocerà nella nel crollo dell'impero romano per ora abbiamo finito